Oggi è lunedì 25 novembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 25 novembre 1960. Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, tre sorelle della Repubblica Dominicana, sono in automobile insieme all'autista Rufino della Cruz per andare a trovare Manolo Giusto e Leandro Guzman, i mariti delle ultime due, nel carcere di Puerto Plata. I due uomini sono stati arrestati nel gennaio precedente insieme ad altre persone e alle tre sorelle, poi liberate nei mesi successivi come facenti parte di un gruppo clandestino che combatte la dittatura di Rafael Leonidas Trugilio, che da 30 anni domina come padrone assoluto sul paese, dopo una campagna elettorale in cui erano stati uccisi degli oppositori ed elezioni in seguito risultate truccate. Il suo regime, basato sull'anticomunismo e sul culto della personalità, ha gettato il paese nella retratezza, con la requisizione di tutte le ricchezze da parte del dittatore, lo sfruttamento della forza lavoro e una dura repressione. Nel trentennio si stima che 50.000 persone siano state uccise, fra oppositori politici e rivoltosi, mentre Trugilio e la sua famiglia hanno accumulato 800 milioni di dollari, frutto dell'appropriazione di beni dei cittadini depositati in banche straniere. L'auto sulla quale viaggiano le tre sorelle viene bloccata sulla strada da agenti del servizio di informazione militare. Le donne, condotte in un luogo appartato nelle vicinanze, una piantagione di canna da zucchero, vengono stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate. Anche l'autista viene ucciso. I quattro corpi vengono poi gettati in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. Nonostante la censura imposta dal regime, l'opinione pubblica viene a conoscenza della verità dei fatti. La ribellione popolare si allarga. Gli Stati Uniti, per impulso del neopresidente John Fitzgerald Kennedy, per la prima volta prendono decisamente le distanze da Trucillo e la CIA inizia ad elaborare dei piani di intervento. La notte del 30 maggio 1961, mentre il dittatore sta transitando in auto nella periferia di Santo Domingo, viene ucciso da un colpo di fucile. Il 17 dicembre 1999, quando delibera l'istituzione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in memoria dell'uccisione delle sorelle Mirabal, designa il 25 novembre come data della ricorrenza. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata. Grazie!